Oggi si è riunito il tavolo sulle amministrative del centro-destra. In quella sede noi di Fratelli d'Italia abbiamo proposto di procedere in mancanza di scelte condivise al 100% alle primarie nelle principali 5 città dove si va a votare. Se così si decidesse saremmo i primi a esserne lieti, altrimenti in fretta bisogna scegliere dei candidati fortemente condivisi.